I vostri commenti, forza che siete in video Questo è un video che io salutate per i nostri amici degli Stati Uniti A proposito, bisogna decidere il periodo, che periodo? Il periodo di spartizione Io voglio Mi stai facendo affondare a me Nel blu dipinto di blu felice di stare quaggiù e volare e volare e volare più in alto del sole ancora più su E tuffarsi, tuffarsi, tuffarsi nel mare più blu E una notte, una notte dalete suonata per noi Volare, oh oh, nuotare, oh oh oh, nel blu Perchè esci? Blu 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 Non è uscire qui e entrare sulla nave, perchè te esci Stai nel più blu del mondo Però allontaniamoci dalla barca Fai cose della penda Per tornare alla barca, fai fumine, fumine E ora, bravo, fai fumine Per tornare alla barca